L'agro sarnese nocerino non può essere assolutamente paragonato alla terra dei fuochi, dice il sindaco di Sarno, dottore Giuseppe Canfora, ed è esagerato affermare che i nostri territori siano altamente inquinati, per cui i prodotti sono nocivi. Continua ancora il sindaco contestando chi afferma che le morti da neoplasie siano in aumento nell'agro. Le morti, dice il dottore Canfora, sono dovute a motivi nutrizionali, per cui dobbiamo stare attenti e non mortificare le eccellenze che vengono prodotte nel nostro territorio e commercializzate in tutto il mondo. Noi dobbiamo cercare di rilanciare l'immagine del paese e contro ogni logica e razionalità paragonare Sarno o paragonare l'agro sarnese nocerino con la terra dei fuochi. Ora, non me ne vogliano i cittadini che vivono in quei territori, tutta la mia comprensione, tutta la mia solidarietà, ma l'agro sarnese nocerino in questo momento non si discosta assolutamente da ciò che è la media nazionale per quanto riguarda la morte per neoplasia. Quindi non c'è un aumento. Voglio ricordare tranquillamente che la prima causa per decessi sono le patologie cardiovascolari, sono le patologie cardiovascolari che sono molte volte il risultato di una pessima alimentazione, di una cattiva abitudine alimentare. Ma non è assolutamente il primo in gradatorio la morte per neoplasia. Quindi voglio dire, Sarno come l'agro sarnese nocerino sta sicuramente al di sotto della media nazionale rispetto all'Italia del Nord e al centro Italia. Cioè se noi abbiamo nel nostro agro sarnese nocerino prodotti eccezionali, prodotti di filiere eccezionali che esportiamo in tutto il mondo e soprattutto in paesi dove la selezione è strepitosa, cioè la selezione è severissima, ma voi pensate che quei prodotti se non rispondessero a norme sanitarie precise noi potessimo venderli in Europa, in America o nell'Asia o in Giappone? Grazie.